Prima di avviare il video ti invitiamo a cliccare sul pulsante iscriviti e a lasciare un mi piace, grazie. Purtroppo abbiamo appreso della scomparsa di Totò Schillaci, l'eroe delle notti magiche di Italia 90. Vorremmo che fosse solo una delle tante notizie false che circolano, ma è realtà. Il grande attaccante palermitano, autore di Goli Indimenticabili, ci ha lasciati a soli 59 anni, spegnendosi nella sua Palermo e colpendo profondamente non solo il mondo del calcio, ma anche quello dell'informazione. Cosa ha dichiarato Totò Schillaci prima della sua morte? Le sue parole sono un duro colpo per tutti noi che speravamo in un suo recupero fino all'ultimo momento. Ripercorrere le sue ultime dichiarazioni, a poche ore dalla notizia che mai avremmo voluto ricevere. È straziante. Il Corriere ha riproposto l'ultima intervista a Schillaci, rilasciata a marzo 2023, in cui raccontava il momento in cui Gili fu diagnosticata una neoplasia al colon. Ricordiamo le sue parole. Il mondo mi è crollato addosso, sono caduto in depressione e avevo paura di non farcela. Ma tra morire e affrontare questi problemi, preferisco affrontare qualche piccolo problema. Riascoltare queste frasi ora, dopo la tragica notizia della sua scomparsa, fa venire i brividi.